Utilizzando Windows 7 per la prima volta noterete un certo numero di miglioramenti e modifiche nel desktop. Mi chiamo Andy Sweet e sono un autore del team Windows. Per i prossimi 5 minuti vi presenterò alcune delle modifiche più importanti, tra cui una barra delle applicazioni migliorata, le nuove Jump List, che rappresentano uno strumento per aprire i file utilizzati più spesso e informazioni sulla disposizione delle finestre aperte sul desktop. Iniziamo dalla barra delle applicazioni. Come noterete, i pulsanti della barra delle applicazioni sono ora più grandi e il test è disattivato per garantire maggiore chiarezza nella visualizzazione. In Windows 7 l'intera barra delle applicazioni è un'area in cui potete aggiungere programmi. È sufficiente fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu Start e scegliere Aggiungi alla barra delle applicazioni, oppure trascinare semplicemente l'icona del programma. A questo punto potete fare clic sul pulsante che avete appena aggiunto per aprire il programma. Potete anche spostare i pulsanti della barra delle applicazioni e disporli nell'ordine desiderato, una modifica richiesta espressamente da molti di voi. Per accedere ai file, in passato utilizzavamo l'elenco Documenti recenti o Elementi recenti nel menu Start. Oggi è però disponibile un metodo migliore, le Jump List. Si tratta di brevi menu che vi consentono di trovare rapidamente i file utilizzati più spesso. Come ricorderete, l'elenco Documenti recenti di Windows XP conteneva diversi tipi di file visualizzati in modo piuttosto disordinato. Anche le Jump List consentono di visualizzare i file recenti, che però ora sono organizzati in base al programma. Fate clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante del programma sulla barra delle applicazioni, quindi scegliete il file da aprire. Potete anche aprire un'altra finestra per il programma, ad esempio un secondo file di WordPad, facendo clic sul nome del programma. Dopo aver utilizzato il programma, potete fare clic su Chiudi tutte le finestre. Le Jump List sono disponibili anche qui, nel menu Start, per i programmi che avete aggiunto qui in alto e per quelli che avete utilizzato di recente. Le Jump List non sono utili solo per i file, ma vi permettono anche di aprire cartelle dal pulsante di Esplora Risorse e persino di accedere a Siti Web dal pulsante del Web Browser. L'aspetto forse più interessante delle Jump List, tuttavia, consiste nella possibilità di aggiungere i vostri elementi preferiti. Per aggiungere questo elenco attività che aggiorno quotidianamente, aprirò la Jump List per il programma. Selezionerò il file in Recenti, quindi farò clic sull'icona a forma di puntina. L'elenco è stato aggiunto in alto e ora posso accedervi con facilità. È facile modificare l'ordine degli elementi aggiunti o rimuoverli. Basta fare clic sull'icona a forma di puntina. Non preoccupatevi, l'elemento non viene eliminato, ma solo rimosso dall'elenco. Potete anche fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento recente per rimuoverlo dall'elenco. Come abbiamo visto, le Jump List rappresentano un semplice strumento per aprire i file. Un secondo miglioramento vi permette di visualizzare rapidamente i file aperti. Questo metodo semplifica la ricerca, in particolare in presenza di molti file aperti contemporaneamente. Osservate il mio desktop. Non ricordo nemmeno tutti i file che ho aperto. Posso però fare clic su un programma sulla barra delle applicazioni e visualizzare le anteprime di tutti i file che ho aperto per tale programma. Per avere un'idea più precisa, facendo clic su una delle anteprime visualizzerete rapidamente il file, anche se si trova dietro molte altre finestre. Facendo clic sull'anteprima porterete la finestra in primo piano. A questo punto, per visualizzare rapidamente il desktop, potete continuare a utilizzare il pulsante Mostra Desktop. La novità consiste nella nuova posizione del pulsante, visualizzato ora in questo angolo per accedervi più facilmente. Non dovrete più mirare a destra del pulsante Start, ma semplicemente spostare il mouse fino a raggiungere l'angolo. Come avrete notato inoltre, non è più necessario fare clic. Allontanate il mouse e i file verranno visualizzati di nuovo. Come in Windows XP, potete sempre fare clic sul pulsante per ridurre a icona i file aperti. Questi piccoli elementi sul mio desktop, invece, sono i gadget. Si tratta di strumenti divertenti per ottenere informazioni, come aggiornamenti sul meteo o le notizie del giorno. Gli utenti di Windows Vista noteranno che non è più presente la barra laterale. I gadget possono essere posizionati in qualunque punto, ma non sono attivati per impostazione predefinita. Fate clic con il pulsante destro del mouse, scegliete Gadget, quindi trascinateli nella posizione desiderata. Potete fare clic qui per trovare molti gadget gratuiti nel sito web di Windows. La barra delle applicazioni e le jump list costituiscono le modifiche più significative, ma voglio mostrarvene altre meno evidenti. Si tratta di caratteristiche divertenti e, come vedrete, utili per disporre le cartelle e i file aperti sul desktop. Trascinando una finestra aperta verso un lato del desktop, noterete un comportamento piuttosto sorprendente, ovvero che la finestra si blocca in una determinata posizione. Provate a trascinare una finestra verso uno dei lati. Non appena il cursore del mouse tocca il lato del desktop, la finestra si blocca occupando metà schermo. Trascinandola di nuovo, la finestra torna alle dimensioni precedenti. Si tratta di un comportamento molto utile per confrontare due file affiancati o per spostare file tra due cartelle. Potete bloccare in verticale lunghi documenti o messaggi di posta elettronica per semplificarne la lettura. Basterà ridimensionare la finestra verso il lato superiore o inferiore del desktop. Potete inoltre ingrandire completamente le finestre, trascinandole verso la parte superiore del desktop. Quando sul desktop sono aperte molte finestre, provate questo metodo per concentrarvi su una sola. Fate clic sulla parte superiore di una finestra, quindi scuotetela, trascinandola con rapidi movimenti a destra e a sinistra. Tutte le altre finestre aperte verranno ridotte a icona. Scuotete di nuovo la finestra e tutte le altre riappariranno. Per saperne di più, consultate la guida per questo video. che contiene altre informazioni e istruzioni dettagliate e utili per esplorare Windows 7.